Una giovane delinquente, drogata e rea di aver assassinato un poliziotto nel corso di una rapina, viene graziata dalla condanna. Però in cambio si deve lasciare rieducare e poi diventare un sicario per il governo. All'inizio è molto servile nei confronti di Bob, il suo istruttore, ma poi, innamoratasi di Marco, lavoratore in un supermercato, decide di cambiare vita. Dopo molti pericoli ci riuscirà ma dovrà abbandonare anche l'amore. La carta vincente è la contraddittorietà della protagonista, dolce e decisa, debole e spietata, merito soprattutto della grande interpretazione di Ampariliod, carica di grande fascino.